Siamo a Locarno, a Rivellino, con Yuzan Baldwin e a Yuzan chiediamo come mai la fotografia? Allora, la fotografia per me è un modo di esprimersi e in casa ho anche la madre che ha sempre avuto questa passione quindi me l'ha un po' trasmessa negli anni e a me ha sempre preso moltissimo. I miei inizi sono stati appunto durante gli anni liceali e durante gli anni dell'università ho scoperto la foto analogica e questa mostra qua infatti presenta le foto che ho scattato in analogico durante questi anni. In analogico e tanto per gli appassionati che tipo di attrezzatura hai usato? Allora, magari anche la pellicola vorremmo sapere. Grazie. Allora, ho scattato tutte le foto su 35mm con una Nikon FM, la pellicola che ho usato è la Kodak Triax 400, alcune sono il Ford HP 5 e una è con la FOMAPON 400, quindi una selezione di pellicole diverse e di qualità diversa ma alla fine l'esito penso sia abbastanza uguale. La ultima domanda, allora, volevamo sapere quali sono i fotografi che ti hanno ispirato o che attualmente ti continuano ad ispirare? Per me il gruppo fotografico che più mi ispira è il gruppo Magnum, infatti questa mostra è ispirata dal lavoro e dal metodo di Enric Cartier-Bresson. Alcune foto sono anche state ispirate da Bressai e altri fotografi del gruppo Magnum. Grazie, ciao. Ciao, grazie.